azione prendi quella e mettetela al petto al contrario non sto calma per niente dio beh lo so motore azione ciao 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 che ma... che madonna il giallo blusho, il problema è questo il suo parlamento almeno il giallo è un po' suggestivo, è il giallo dei simpson a un certo punto sono a campanello, uno degli asterischi mi ha preso la bocca e vede un punto e quello gli dice, a te che ce fai qui? non lo vede una festa di zone asterischi? e quello gli risponde, bella ciccio, fa pietro, che non me riconosci? me fa messer gel, a me si messer gel a me mi fa dire che ce fai messer gel che cacchio non riconosceva col gel che fai messer gel lei è il tecnico responsabile della sicurezza dell'azienda risponda perché non ha fatto niente? è un osso duro non vuole rispondere, eh? io la sto riprendendo tutti sapranno continui così diamo una colpa al capo, eh? sorride lei, sorride, bravo vedrà che articolo che farò non vuole risponde, né? no vuole risponde? no vuole risponde? no vuole risponde lo risponde si lo sai